ben ritrovati amici di youtube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calcio mercato attenzione perché succedono cose grosse grandi manovre a madrid dove carletto ancelotti ha rinnovato il contratto ha fatto una scelta importante poteva andare allenare nazionale brasiliana aveva trovato un preaccordo che sarebbe stato valido dal primo luglio 2024 in vista del mondiale di stati uniti messico e canada del 2026 invece carletto ha rinnovato proprio sino al 2026 con real c'è una clausola nel contratto però che prevede come ancelotti possa anche non fare allenatore nei prossimi due anni ma magari l'ultimo anno anche fare dirigente tradotto attenzione a sciabialonso che è un allenatore che real tiene d'occhio per il futuro che sta facendo grandissime cose prima in bundesliga col bayern leverkusen sta facendo anche una signora europa league allenatore che ha il madridismo nel cuore e nelle vene perché è un allenatore che ha giocato anche da calciatore nel real quindi attenzione però al momento il real va avanti con carletto qualcuno aveva sparato dei zerbi ma zero tante voci in realtà di concreto zero l'unica idea potrebbe essere lasciar via l'orso ma in realtà il real voleva tenersi ancelotti e ancelotti aveva detto più di una volta nelle varie conferenze stampa voglio stare a madrid voglio stare a madrid il mio ciclo non è finito se il real mi rinnova io sto qui se il real mi vuol tenere io non mi muovo e così è stato e quindi a cavallo insomma della fine dell'anno di questo 2023 carlo ancelotti rinnova e chissà che non nella calza della befana neanche a carnevale neanche a pasqua ma in estate tra il costume e l'infradito non si ritrovi un regalo straordinario di nome chiglian bappe perché bappe ora andrà via da parigi in questo momento non ha cambiato idea il pari sta provando a trattenerlo c'è a distanza il liverpool ha chiesto informazioni ha chiesto informazioni il celsico di concreto in realtà le strade sono due o sta a parigi oppure va a real madrid e real florentino sono lì pronti a entrare in azione ufficialmente no va detto ufficialmente loro dicono siamo già stati seduti abbandonati due anni fa di questi tempi non vogliamo ripetere lo stesso errore e quindi aspettiamo temporeggiamo però il real è sorgnone e la sensazione è che il real alla fine poi più avanti verso marzo verso aprile tornerà l'assalto riprogrammerà un affondo importante per vestire con la camiseta blanca chiglian bappe ti parla l'impossibile quinquennale ma anche sei anni di contratto insomma cifre prendendo a zero sarebbero clamorose qualcosa come 50 60 milioni a stagione diventerebbe il giocatore più pagato al mondo ma stiamo parlando di un fuori classe assoluto di 25 anni quindi ancora giovane che almeno dieci anni di carriera sta ordinari davanti ma sarebbe un colpaccio del real madrid quindi occhio a carletto che resta e potrebbe avere anche un bappe insomma mi sa che qualche altro trofeo nella bacheca dell'allenatore emiliano c'è spazio e c'è voglia di andarlo ad inserire magari già la supercoppa spagnola che si giocherà tra l'11 e il 14 di gennaio in diretta tra l'altro in esclusiva su tele lombardia ci sarà la doppia semifinale derby madrideno real atletico l'11 il 12 bar sa usasuna e poi la finale il 14 ma forse il 10 10 real 11 bar sa si mercoledì giovedì e la finale il sabato controllate perché non mi ricordo bene voglio dirvi una cavalla la finale 14 quello sono abbastanza sicuro forse domenica la finale si vabbè comunque quella settimana il mercoledì giovedì e due semifinali la finale poi nel weekend che potrebbe essere al bar sa comunque adesso abbiamo divagato è il bello della diretta come vedete tanti tagliano cuciono montano fanno di sono invece vado sempre a ruota libera registrazione a volte sono perfette come oggi adesso ho un dubbio non ho modo di controllare perché sto registrando col telefonino il video però insomma comunque avete capito quali sono le date insomma poi fate zapping la trovate la partita chiusa parentesi internazionale ci trasferiamo dalle latitudini di casa nostra tanti mi avete scritto cosa è successo tra bonucci e la roma non è successo nulla di particolare se non che ha detto anche oggi murigno in conferenza stampa non era forse la situazione giusta per i tifosi ecco secondo me questo è un errore se la roma non era convinta di prendere bonucci ci sta perché bonucci ha 36 anni per me è al crepuscolo della carriera il meglio la dato in parabola discendente da un paio d'anni era una scommessa era un azzardo un milione per sei mesi che però costo azienda sono due lui poteva ridursi qualcosa alla fine poteva essere un milione tutto compreso però uno può anche dire io quel milione lo metto su un altro giocatore lecito più giovane più affamato ci sta l'errore secondo me se tu avvi una trattativa non ti puoi far condizionare dall'opinione pubblica se credi che quel giocatore possa essere un rinforzo valido e murigno che aveva dialogato con bonucci lo riteneva tale è sbagliato poi fare dietro front perché i tifosi non lo vogliono tifosi sono importantissimi ma devono fare i tifosi devono criticare eventualmente bonucci dopo che bonucci arriva gioca male non rende non a priori vi faccio un esempio recente sul quale tra l'altro mi ero anche speso sia in televisione che in radio perché lo conosco da tantissimi anni da quando è iniziato la carriera al pavia francesco acerbi un anno e mezzo fa di questi tempi i tifosi dell'inter non volevano acerbi sui social petizioni no acerbi e milanista no ha giocato al milan ora ideva al gol in lazio milan tutte cavolate tutte scemenze tutte sciocchezze acerbi un fior di professionista l'inter l'ha preso non ha praticamente saltato una partita titolarissimo l'anno scorso ha vinto due trofei da protagonista e è arrivato anche alla finale di champions quest'anno è titolarissimo perché poi alla fine o gioca centrosinistra o gioca centrale in zaghi non ci rinuncia mai è un giocatore della nazionale e oggi l'idolo dei tifosi ed è un intoccabile conta il campo la società importante forte in questo secondo me è un brutto segnale da parte della roma non si deve far condizionare i frilkin e chi per loro da i rumors da quello che filtra da parte delle tifoserie tifoserie possono gradire un giocatore possono non gradirlo ci sta è giusto ma poi conta il campo se una società è convinta di quel giocatore deve prenderlo quindi secondo me alla fine da tutta questa vicenda la roma non esce bene vediamo chi arriverà perché comunque un centrale murino naturalmente se lo aspetta vi ho parlato ovviamente di queste cose vi aggiungo nelle prossime ore l'inter ufficializzerà e rinnovi di michitarian d'armian e di marco 2025 d'armian 2025 michitarian 2028 di marco 2 milioni e mezzo d'armian più bonus 4 milioni a stagione per gli altri due sono delle mosse importanti vengono fatte entro il 31 per un motivo semplice perché poi non ci sarà più decreto crescita e quindi ovviamente insomma i costi sarebbero stati superiori sui rinnovi non di di marco perché ha sempre giocato in italia ma di darmian perché arrivava dall'estero ricorderete rientrava dal manchester united ed è lo stesso mkhitaryan quindi insomma sono due operazioni importanti inter blinda alcuni suoi giocatori importanti il milan manca solo annuncio ufficiale ma avevo raccontato negli scorsi giorni inutili ripeto comunque arriva gabbia anche perché vigliarada ha trovato il sostituto nell'ex united e bejictas eric bailey quindi appena tessera bailey in questi giorni dal via libera e credo che insomma l'1-2 gennaio gabbia sarà a milano e sarà un giocatore del milan grazie per essere stati in mia compagnia ci vediamo domani con tante altre novità anzi il ricordo è in alto a destra la campanella attivatela per avere tutte le notifiche in tempo reale condividete il video spammatelo ditemi la vostra mbappé e ancerotti al real ma che coppia sarebbe ma soprattutto mbappé al real è la scelta giusta per lui per il real credo che sia ovvio dire di sì ma per foste mbappé andreste al real o andreste da un'altra parte o restereste a parigi per scrivere la storia ditemi la vostra nei commenti voglio le vostre opinioni feedback considerazioni caso bonucci roma cosa ne pensate ha fatto bene da roma mollarlo oppure se lo volevano era giusto prenderlo non farsi influenzare dai tifosi gabbia minan abbiamo parlato tante volte i rinnovi dell'intra insomma aspetto le vostre ciao a tutti a domani